signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale nello scorso video delle fondamenta del dungeon abbiamo parlato di enigmi e interpretazione come sempre nell'arte del masteraggio vediamo di approfondire un po l'argomento un video su che cosa dovrebbe essere un buon enigma l'ho già fatto anche se un po vecchiotto dovrebbe essere l'episodio 7 delle fondamentali del dungeon nel caso vi interessi andate a rivedere come sempre vi lascio il link da qualche parte quest'oggi invece scendiamo un po in profondità e andiamo a parlare di un particolare tipo di png che può tornarvi utile soprattutto quando i giocatori si trovano di fronte a un enigma che a quanto pare troppo ostico il mercante di informazioni può capitare che i giocatori rimangano bloccati davanti a un enigma magari è molto più complesso di quello che voi vi eravate aspettati magari sono loro a non vedere qualcosa che in realtà è ovvio e palese in realtà questo è assolutamente indifferente quando la linea narrativa di una quest si blocca capire di chi è l'errore può essere importante in un secondo momento soprattutto se è vostro ma nell'immediato quello che serve è sbloccare l'intoppo e fare in modo che la storia continui a procedere la cosa più semplice sarebbe lasciar perdere e far vincere i giocatori cioè fondamentalmente la prima cosa che faranno indiscriminatamente sarà dichiarata al master la scelta corretta in modo da andare avanti questa però è una cosa molto rischiosa principalmente perché ai giocatori non piace essere trattati come se fossero dei ragazzini e non gli piace quando il master fondamentalmente li grazia e lascia vincere la cosa migliore da fare è invece quella di sostituire il compito che non riescono a portare a termine con qualcos'altro che in realtà abbiano molte più possibilità di portare a termine con successo fondamentalmente sostituire un compito con un altro a scanso di equivoci all'interno del metodo del dungeon enigma non è un sinonimo di indovinello quando si parla di enigma si parla di una situazione di gioco in cui vengono messe alla prova le capacità di ragionamento dei giocatori e la loro conoscenza dell'ambientazione in cui le loro imprese si svolgono quindi sì fornire la corretta risposta al criptico indovinello della spinge è un enigma ma anche capire quale sarà la prossima vittima del serial killer in base alle prove trovate sul precedente luoghi dell'elitto è un enigma anche situazioni più banali all'interno del gioco come stabilire quale sia la migliore rotta per superare l'anomalia spaziale trovare qual è il punto migliore per guardare il fiume decidere se è meglio prendere la stravda più breve o quella più lunga ma meno pericolosa o anche solo banalmente riuscire ad anticipare quale siano i piani del cattivo quale possa essere il prossimo evento che si verifica nella storia sono tutti da considerarsi rigui e appunto per questo che è sempre meglio che voi inseriate nel vostro cast di png quello che tecnicamente viene chiamato il mercante di informazioni in pratica si tratta di un png che abbia plausibilmente accesso a un'ampia gamma di informazioni di soluzioni degli enigmi e che sia disposto a condividerle con i pg in cambio di un servizio nella sua forma più semplice il mercante informazioni potrebbe benissimo essere un qualsiasi tipo di esperto in un campo che sia disposto a condividere la propria esperienza con i pg in cambio di soldi che sia il mago che risolve per loro indovinelli arcani o l'hacker che è disposto in cambio di denaro a violare reti informatiche passare i dati ai pg ai fini del meccanismo di gioco cambia veramente poco un personaggio del genere anche facile da inserire al volo in una quest e non ha bisogno di chissà quale caratterizzazione se volete fare qualcosa di più consistente però è meglio introdurre un personaggio più caratterizzato che funga da alleato dei pg e che gli aiuti a uscire dagli enigmi che non riescono a superare con le proprie forze il mercante di informazioni dovrebbe essere qualcuno che abbia validi presupposti per essere in possesso di un'ampia gramma di informazioni pettegolezzi e conoscenze e che abbia anche bisogno dei pg per risolvere delle questioni personali o di altra natura fondamentalmente qualcuno che possa risolvere l'enigma dei pg in cambio che i pg facciano un'altra quest per lui è infatti più interessante per i pg che le informazioni ricevute debbano comunque sudarsele gli farà sembrare che essersi rivolti al mercante delle informazioni non sia una sconfitta o un modo per barare ma che sia un metodo perfettamente legittimo di acquisire quell'informazione che gli serve per proseguire nell'avventura appunto giocando l'avventura è infatti più interessante per i giocatori che le informazioni non le ottengano semplicemente pagando ma che debbano comunque sudarsele in qualche modo il fatto che per ricevere l'informazione che gli permette di superare l'enigma loro debbano fare un'altra quest non gli farà percepire la cosa come una sconfitta o magari un metodo per barare ma un metodo più che legittimo di proseguire la linea narrativa giocando da linea narrativa quale sia il mercante di informazioni migliori dipende come sempre dal regolamento che state usando dalla storia dal tipo di gruppo che i giocatori hanno messo assieme però ci sono alcune linee guida che si dovrebbero seguire quando lo si crea deve avere accesso alle informazioni ovviamente per poter dare le informazioni agli avventurieri deve prima possederle lui come questo sia possibile poco importa potrebbe avere mezzi magici o tecnologici per scrutare eventi vicini e lontani potrebbe avere una rete di informatori l'importante è che i giocatori siano ragionevolmente sicuri che le sue informazioni siano corrette deve avere bisogno degli avventurieri deve esserci un valido motivo per cui a lui serva l'aiuto dei giocatori diciamo che lo stereotipo dello stregone potentissimo che potrebbe sconfiggere ogni incontro e l'ambientazione semplicemente schioccando le dita ma preferisce far lavorare al posto suo una banda di tombaroli in attività da poche settimane è un po' stantio e dovrebbe oramai essere superato il personaggio comunque dovrebbe avere delle valide ragioni per non agire di persona magari semplicemente non vuole essere coinvolto nella situazione o non vuole sar sapere ha dei suoi nemici che lui è coinvolto dove si trova potrebbe avere altri motivi per cui non vuole fisicamente allontanarsi dal suo centro di potere nella sua abitazione quello che è e non aver necessariamente la possibilità di avere degli scagnozzi sotto il suo diretto comando deve essere reperibile il fatto che lui abbia un sacco di informazioni è del tutto inutile se poi i personaggi non possono andarsene a prendere se nella vostra ambientazione per contattare una persona basta alzare il telefono questo non dovrebbe essere un grosso problema se però il livello tecnologico o il flavor della vostra ambientazione non vi permette questi lussi il mercante informazioni deve essere qualcuno che abbia ragionevoli motivi per essere sedentari o comunque per essere ragionevolmente sempre trovato in uno specifico posto o in un'area relativamente limitata senza che gli avventurieri debbano dare chissà quale preavviso per andare a trovarlo deve essere stato presentato prima la cosa più importante se si vuole che quando i personaggi vanno dal mercante di informazione non lo considerino una sconfitta ma qualcosa che fa parte del normale flusso della quest il mercante di informazioni deve essere presentato prima che i personaggi ne abbiano effettivamente bisogno durante la loro missione se i personaggi sono già a conoscenza che potenzialmente esiste qualcuno che può aiutarli a superare le situazioni più ostiche non sembrerà che sia stato tirato fuori dal master solo allo scopo di aiutarli anzi è possibile che se a un certo punto non riescano a superare un determinato ostacolo siano loro stessi a dire ah potremmo andare a parlare con quel png lì che sicuramente potrebbe aiutarsi e considerare questa la linea di azione più corretta fondamentalmente non si accorgeranno neanche di essere rimasti bloccati naturalmente dovete valutare bene quanto sia informato e disponibile il mercante delle informazioni deve essere sì competente affidabile reperibile ma non deve neanche trasformarsi in un tutologo ogni presente che fondamentalmente risolva le quest al posto dei giocatori diciamo che per questo video mi sono dilungato fin troppo quindi per oggi la chiudiamo qui mi piacerebbe sapere da voi se conoscevate il mercante informazioni o se il vostro master vi ha mai introdotto il mercante informazioni in quest come sempre se avete domande dubbi perplessità usate l'area di discussione qua sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il master k e noi ci vediamo al prossimo video